La Simona, che è l'imprenditrice del gruppo, è riuscita talmente tanto a sponsorizzare questo spettacolo che siamo famosi non solo in Italia, non solo all'estero, ma siamo famosi non solo nel mondo, ma anche nello spazio. Allora, ci proviamo, proviamo a fare un collegamento, ma la mettiamoci qua. Allora, mettiamo qui, perché per la prima volta Azz si collega con la navicella spaziale di Samantha Cristopoletti. Applauso, Samantha, Samantha, Samantha ci sei? Sì, è là, sta arrivando, arriva, 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 Samantha, sì, c'è un problema di collegamento, Samantha, ci sei Samantha, ci ascolti? Allora, sì, un momento, facciamo tutto dall'inizio, perché facciamo ripartire il collegamento, perché c'è qualche problema. Scusate, perché si trattava di avere della gente da budrio, tutto andava bene, ma qua è, Samantha è in orbita. No, anche perché è tutto in diretta e non riusciamo a stabilire, possiamo... Hai fatto bene a dirlo, pensavo non fossi registrata, è brava, tutto in diretta. Sai, pupazzi di neve è difficile farli in diretta. E allora ci riproviamo? Samantha, ci sei? Samantha? 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 Ci siamo, ci siamo! Sento qualcosa, sento qualcosa. Facciamo un applauso, Samantha Cristoforetti! Samantha? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusa un attimo. Cos'è successo? No ragazzi sto domando. Sta manissimo ragazzi. Sarà l'atmosfera. Ma senza gravità è casino. Ma ho capito. Ma voglio la Cartigenica. Ma non riesco a prenderla con quel cazzo l'atmosfera. Samantha... Samantha... Samantha!